buongiorno siamo al roma i fidelity oggi è domenica 28 novembre sta per concludersi la prima parte della seconda giornata della chermessa romana che torna dopo due anni di assenza e sono in compagnia di luca di brigida di centro musicale punto vendita di riferimento che si occupa non solo di ai fai ma anche di strumenti musicali e luca si occupa all'interno di cosa fattuato ovviamente della della parte ai fai naturalmente la mia attività all'interno del negozio è quella appunto di responsabile del reparto wifi audio video faccio giusto un piccolo riferimento per chi non ci conosce mitio è un negozio che nasce nel 1972 si fa parte di quei tre negozi storici di roma come detto prima ci occupiamo oltre che di alta fedeltà di audio video al negozio all'interno del negozio sono presenti tre sale d'ascolto due sale ai fai e una sala audio video perciò non solo ai fai ma appunto grandi tv grandi schermi video proiezione e poi naturalmente abbraccia praticamente a 360 gradi tutto il mondo degli strumenti musicali perciò da chi inizia da in erba al professionista questo in grandi linee è il centro musicale aggiungo che avete sale importanti e soprattutto le due sale quella insomma video video e quella più grande esatto qualche tempo fa era dedicata ad altri sistemi pia forse erano dei sistemi pia poi abbiamo trasformato addirittura live facevamo dei piccoli live il fine settimana poi è arrivato il covid e abbiamo chiuso una parte della della sala live dove si esibivano appunto trio jazz e quant'altro ed è diventata una bellissima sala d'ascolto abbiamo a settembre rinnovato la sala perciò tutta nuova nuova sala ai fai nuova sala molto importante d'ascolto sala dove ci vedremo presto perché sicuramente organizzeremo delle cose insieme anche con con la partnership con il gruppo vision di cui fate parte e con cui siete presenti al roma ai fidelity con siamo due sale con tre installazioni si molto interessanti molto interessanti perché poi siamo anche un po' orgogliosi perché naturalmente abbiamo quest'anteprima europea di queste bellissime quacoustic questa serie nuova serie concept 30 e con 50 perciò questo bookshelf e questa praticamente questa coppia di diffusori da pavimento che si inserisce in un segmento interessantissimo direi anche molto battagliato con soluzioni incredibili perché vanno a prendere dalla serie 500 dalla serie top di gamma praticamente le soluzioni più importanti e vengono riportate in un rapporto qualità prezzo che quacoustic quest'anno credo sia veramente imbattibile è una di quelle casse da venire in negozio ad ascoltare credo che sarà uno dei best seller del 2022 e sono due sistemi bookshelf e da pavimento che vengono pilotate con un prodotto spettacolare perché il nuovo evo 150 della cambridge audio in questo caso abbiamo questo amplificatore da 150 watt perciò con un amplificatore con un pilotaggio incredibile che riesce appunto a dare una presenza scenica ai diffusori in maniera veramente sconvolgente aggiungo e con uno streaming impressionante all'interno con una capacità veramente incredibile vorrei aggiungere che a differenza di tanti altri competitor il cambridge è veramente di semplice utilizzo mi rivolgo a quella clientela che ancora oggi guarda lo streaming audio guarda la musica liquida un pochino titubante non ce ne accorgiamo al negozio perché hanno paura di interagire con questo mondo e invece è semplicissimo perciò veramente vi invito a venire in negozio a provarlo perché scopriete un prodotto per tutti aggiungo che è comunque un prodotto completo ingressi anche bilanciati per dire e ha comunque una sezione di amplificazione con i moduli ENCORE di IPEX che parliamo di prestazioni estremamente elevate e poi avete anche un altro sistema altrettanto interessante abbiamo il premio EISA N30 e model 30 perciò l'amplificatore il lettore cd pre streaming del di Marans in questo caso con le Polk Legend perciò un riferimento incredibile nel mondo dei diffusori abbiamo questo marchio che in Italia magari ultimamente era stato un po' disintegrato diciamo così un po' in seconda linea a torto perché invece ci stanno dimostrando che stanno facendo e fanno hanno fatto dei prodotti veramente di altissimo livello di alta qualità come per esempio questa questa Legend questa serie appunto 800 che è un prodotto veramente incredibile con soluzioni acustiche e tecniche veramente di altissimo di driver e i condotti d'accordo e poi c'è la L800 che appunto in dimostrazione il diffusore con il sistema SDA per la cancellazione del crosto che è sensazionale cioè bisogna sentirlo per forza voi ce li avrete ce li abbiamo naturalmente in negozio ce li avrete in negozio perché è sensazionale perché con la riduzione del crosto si apre la scena e diventa di dimensioni e vorrei aggiungere senza il supporto di elettroniche è tutto passivo perciò attenzione siamo veramente nel campo dell'acustica dell'ingegneria acustica veramente portata ai massimi livelli e poi c'è un terzo sistema perché avete un ulteriore saletta e poi abbiamo un terzo sistema fatto qui entriamo nel mondo dell'audio video abbiamo l'ultimo prodotto di iSense il laser 4k che viene proposto con vari polliciaggi abbiamo dagli 88 100 fino ai 120 pollici perciò questa nuova tecnologia che sta un po' entrando nel mondo della videoproiezione e io sinceramente credo molto in questa soluzione perché possiamo portare il proiettore a un livello più alto più alto nel senso non voglio dire a livello qualitativo per carità ma anche diciamo allargarlo un po' a quelle famiglie che oggi magari guardano al videoproiettore come qualcosa di inarrivabile perciò un prodotto che possiamo usare tutti a casa ce lo possiamo mettere sul nostro tavolino sulla nostra console e godere di uno schermo e di un televisore perché alla fine questo prodotto all'interno abbiamo appunto il digitale terrestre abbiamo tutti e due sintonizzatori le certificazioni perciò sostanzialmente una per chi poi non desidera avere un sistema Dolby Surround che naturalmente noi consigliamo ma che per ovvi motivi di estetica possono diciamo non essere appunto inseriti all'interno del nostro appartamento hanno anche un ottimo audio perciò anche singolarmente il prodotto può funzionare con un audio addirittura superiore a quello di un tv e poi la novità è l'utilizzo di uno schermo con tecnologia LR esatto che riesce ad assorbire la luce ambientale esatto che toglie finalmente questo problema del buio assoluto all'interno dei nostri soggiorni e perciò ecco l'assonanza appunto con il televisore cioè portare un grande schermo con un rapporto uguale da prezzo impressionante decisamente impressionante grazie Luca quindi torniamo in trincea perché c'è la seconda parte della seconda giornata del Roma i Fidelity sì sì Emilio dicevo tutto sta andando meravigliosamente tutto a rispetto delle norme anti covid c'è una bellissima affluenza tutto appunto regolamentato però veramente di grande soddisfazione beh si sentiva che dopo due anni e mezzo insomma ci voleva una manifestazione come questa per riportare tutti i nostri amici appassionati a riscoprire i prodotti insomma grazie ancora e a presto grazie a voi e buon lavoro a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti